Un saluto grande da Valencia e un abbraccio grandissimo. Ti aspettiamo qui. Ciao. Waiu, ma ti ricordi quando andiamo combinati sotto quella torre di Pisa, se quella torre potesse parlare? No, ti volevo inviare una piccola cosa che ti avevo promesso, se no continuo a dire 99% di cui amici, 99%. Comunque ti aspetto qui a Valencia presto e un bacio grande, Carmelo, ti voglio bene. Forza. E poi ti mando insieme un piccolo regalo. Non il bicchiere che ti giurta a casa perché qui ormai hanno passato.